ed eccoci qua esattamente 25 da 25 anni che non venivo qui e adesso vediamo che cosa combina questi sono i laghi di la rignana vediamo che cosa combiniamo poi già qua figo e azione vediamo che cacchio riusciamo a combinare in questa avventura lago di varignana veramente un sacco di anni che non ci vengo qua ora proveremo tecniche a spinning a persisi e vediamo se salta fuori qualche luzzo una bella giornata a varignana ci proviamo in questo ottobre bello caldo ci siamo agganciare qualcosa qui in questa schiupa a varignana ci proviamo a venire tutti fiori due plasticidade all' Varirà Plume Più c'è? Sì Più c'è? Proprietà Proprietà Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.